Oggi siamo al paradosso che il vettore vende al prezzo più basso possibile il posto e i margini più alti, cioè non i ricavi, i margini li fa soprattutto sugli ancillari, cioè i servizi connessi. Wizz Air ha il 54% del totale dei ricavi fatto da servizi ancillari. Questo ti dà la misura di come si stanno trasformando i vettori. Siccome sui servizi ancillari si guadagna molto di più, allora prediligono spolpare il più possibile il prezzo del posto e quindi lo buttano giù per portarsi dentro il cliente. E poterli offrire o vendere nella fattispecie i servizi aggiuntivi, perché nei servizi aggiuntivi i margini sono molto più alti. Guarda Fausto, questo è un fatto di commercio. Cioè il ristorante dell'albergo ha più margini dalla stanza venduta dall'albergo spesso. Scusa, non è che stiamo parlando di cose che tu non conosci o che gli ascoltatori non lo sanno le cose.